La vita delle attrici, delle vive del nostro cinema non è certo riposante e per convincere gli increduli abbiamo voluto sorprendere la bella Silvana Pampanini durante una giornata di lavoro. Dopo una serie di scene che si sono incalzate per lunghe ore, il regista Paolella dà la pausa, sospirone di sollievo di Silvana che corre al camerino per riposarsi. Ma l'ala perseguita il lavoro, infatti ella approfitta della sosta per ripassare la canzone e che canterà nel suo prossimo film. Ma ormai la pausa è terminata e Silvana è nuovamente in teatro, pronta agli ordini di del regista. Prima però passa per le mani del truccatore che la ritocca per la scena da girare. Ora è pronta, si accendono le luci e cheggia il fatidico silenzio, si gira e Silvana incomincia a recitare. Ecco la scena continua e poi sarà ripetuta una, due, magari dieci volte fino a che non sarà perfetta. E basta una mosca che voli durante la ripresa, una luce che potrebbe essere piazzata meglio per suggerire la serie di repliche e così da mattina a sera per giorni e giorni. C'ha già mettere tutte le lettere che mi ha scritto da dilla mia, il mozzone di un'aste arica conficcata nella bugia. Una bambole miccia, una lentina stuccia e una coda di cavalluccio che mi ricorda la meglietà.